Benvenuti ad una nuova stagione di Cento Latrine! Vi ponio di sogno di parlare da solo con Alex e Soleil! Valeria? Sì, baci stellari! Sì, baci stellari, ma che ci fai in mezzo? Ma non è vero che sto in mezzo! E vabbè, ma allora ditelo! Alex, Soleil, questa storia ci sta appassionando tantissimo! Ma cosa penserà Delia? Oh my god! Beh, Alfo, capirà! Alex, Delia ha la possibilità di telefonare in diretta! Vediamo se lo farà! Questo è per il prossimo episodio! Ok! E mi sa che non chiama! Infatti non doveva chiamare! Ma che arroganza! Ma no, Adriano, non è arroganza, è... Consapevolezza! Al prossimo episodio, buonanotte!